Bentornati e recentemente Volvo ha annunciato che il suo parco macchine sarà elettrificato e non soltanto, si parla di vetture elettriche ma anche di vetture ibride plug-in. Vediamo il servizio con la voce di Marco Cereda. Volvo Cars, casa automobilistica premium, ha annunciato che ogni nuova auto Volvo che verrà lanciata a partire dal 2019, avrà un motore elettrico, segnando di fatto la fine di un'epoca, quella delle auto mosse esclusivamente da motore a combustione interna, emettendo così in maniera inequivocabile l'elettrificazione al centro della propria azione e del proprio sviluppo per il futuro. L'annuncio rappresenta uno dei passi più significativi mai intrapresi da un costruttore automobilistico verso l'adozione dell'elettrificazione e sottolinea come, un secolo dopo l'invenzione del motore endotermico, l'elettrificazione stia preparando un nuovo capitolo nella storia dell'industria automobilistica. Questo ha a che fare con i clienti, ha detto Akan Samuelson, presidente ECEO. La gente ci chiede in maniera sempre più esplicita e crescente auto elettrificate e noi vogliamo rispondere ai bisogni presenti e futuri dei nostri clienti. Così si potrà scegliere qualsiasi modello Volvo elettrificato si voglia. Volvo Cars introdurrà un'offerta di auto elettrificate su tutta la gamma, comprendendo vetture solo elettriche, ibridi plug-in e auto con soluzioni mild hybrid. Volvo Cars lancerà 5 auto full electric tra il 2019 e il 2021. Tre di queste saranno modelli Volvo, mentre le altre due saranno vetture elettriche ad alte prestazioni realizzate da Polestar, il brand per vetture ad alte prestazioni di Volvo Cars. Ulteriori dettagli su queste auto verranno comunicati successivamente. Questi 5 modelli saranno accompagnati da una gamma di modelli benzina e diesel ibridi plug-in e da soluzioni mild hybrid 48V su tutti i modelli, una combinazione che rappresenta una delle offerte più ampie sul mercato in tema di vetture elettrificate. Ciò significa che in futuro non ci sarà più alcuna auto Volvo senza motore elettrico, dato che le auto esclusivamente con motore a combustione interna usciranno progressivamente di produzione e saranno sostituite da vetture con motore endotermico combinato con opzioni di elettrificazione. Questo annuncio segna di fatto la fine delle auto spinte dal solo motore a combustione interna, aggiunge Samuelson. Volvo Cars ha già affermato di voler avere un totale di un milione di auto elettrificate vendute a clienti sulle strade di tutto il mondo per il 2025. Quando lo abbiamo detto, parlavamo sul serio e così ci arriveremo. L'annuncio sottolinea inoltre l'impegno di Volvo Cars nella riduzione dell'impatto ambientale e nel rendere più pulite le città del futuro. Volvo Cars è impegnata a ridurre sia le emissioni dei propri veicoli, sia quelle provenienti dal ciclo produttivo. L'obiettivo è di avere attività industriali neutre per l'ambiente per il 2025. La decisione segue il recente annuncio secondo il quale Volvo Cars trasformerà Polestar in un nuovo marchio autonomo specializzato in vetture elettrificate ad alte prestazioni. Thomas Ingelat, signor vicepresidente design di Volvo Cars, sarà a capo di Polestar nel ruolo di Chief Executive Officer. Il nostro corso di più e più-elettrico, balanced hybrid e high-performance drive modes. Between 2019 e 2021, Volvo Cars group will launch 5 pure-elettrico models, based on its scalable product and smaller, compact modular architectures. From 2019, all new Volvo models will come with an electrified line-up. The time for electrification has finally come. The technology is ripe, the price is right, and the customers are ready.